Che cos'è? È una catena montuosa, ok? Rappresenta l'energia del segnale. I picchi di questa catena montuosa, i picchi, individuano, frequenza per frequenza, la curva di dispersione. Cioè, vado a fare una sezione di questa catena montuosa, per esempio questa, ok? La posizione del picco di questa catena montuosa mi determina un numero d'onda. Conoscendo la frequenza e il numero d'onda, mi calcolo la velocità di fase e trovo un puntino di questa curva. Ripeto l'operazione di tutte le frequenze, cioè il taglio di una montuosa in tante fettine, e la posizione di tutti questi picchi determina questa curva qui rossa, che è la curva di dispersione, quella isolata in campagna. Allora, la domanda è... Il famoso... il picking, la famosa operazione di picking, cioè andare a individuare il picco della catena montuosa. Allora, vi vorrebbe da chiedere, se mi chiedessi in Italia, qual è il monte più alto? Monte bianco. Ho problemi individuati? No, direi di no. E allora neanche qui. Se io ho la catena montuosa, non ho problemi di frequenza, frequenza a trovare qual è il picco massimo. Non devo andarla a prendere a mano, lo so che è quello. Lo faccio calcolare. Vado a trovare, faccio una ricerca. E questo, 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 no, questo, no, sì, è questo. Quindi il picking lo faccio in automatico, perché siccome mi serve il valore del picco massimo, lo fa lui in automatico, non c'è possibilità di sbagliare. Non è una interpretazione umana in questo. E questo è il famoso picking automatico. Perché si fa in maniera automatica e non in maniera manuale? Perché in maniera automatica è un'operazione oggettiva. In maniera manuale invece interviene la soggettività del cliente, del professionista. Siccome non devo andare a dire questo è il secondo modo, questo è il terzo, questa è il quattro procedura, che porta a un errore garantito, ma devo soltanto cercare i picchi massimi che mi danno una curva apparente o effettiva, e lo faccio fare in automatico. Allora, fatta la misura della curva apparente, che è una combinazione dei vari modi di vibrare, devo andare a trovare il modello, cioè il profilo di velocità. Qual è l'impianto concettuale? Allora, io faccio delle ipotesi sul modello, cioè sulla geometria, la geometria cos'è? Sono degli strati, ipotizzati, omogeni, elastici o al più viscoelastici, isotropi, padri fra di loro, condizioni indispensabili, e pseumorizzontali, cioè non devono essere avere un'impinazione superiore ai 15 gradi. Perché? Perché la teoria è stata sviluppata per padri piareggianti. Quindi, se ci sia lontano troppo da questa condizione, non è che il mio non funzioni. Diciamo che mi ha abbastanza conoscenza per poter dare delle garanzie ai sui risultati. Questa è una limitazione, per esempio. Quindi, se mi trovo in collina, non faccio lo stendimento mask lungo la linea di massima pendenza, ma se proprio voglio farla, la faccio direzione perpendicolare alla massima pendenza. In questa maniera risolvo, evito di dover togliere la condizione di situazione pianeggiante. Come in questo caso qua, poi faccio un esempio. Allora, faccio l'ipotesi sulla geometria, quindi anche sulle caratteristiche meccaniche. Quindi ipotizzo WS, WP, oppure WS, Poisson. Faccio ipotesi sulla densità di massa, che però ha incidenza. Faccio ipotesi sulla posizione della falda. Anche quella ha un'incidenza, diciamo, non rilevante, non significativa. E poi ovviamente sugli spessori. Quindi, sfruttando le onde di allea e il fenomeno di dispersione, calcolo quindi la curva di dispersione sperimentale, quelli campagne, per intenderci, e la curva teorica alle confronto. Da questo processo, che si chiama processo di inversione, trovo il profilo di velocità e quindi le rigidezze, gli spessori che sono la conseguenza, e lo smorsamento. Lo smorsamento, in realtà, è qualcosa già di più avanzato, ancora oggetto di cerca. Da un punto di vista logico, quindi, calcolo la... Faccio la prova in sito, e mi faccio la curva di dispersione apparente, quella di campagna, o sperimentale. Faccio riposare il modello, mi calcolo, faccio una simulazione, calcolo la curva numerica, la confronto con quella sperimentale, e cerco di fare in modo che le tue curve siano sovrapposte. Se non lo sono, cambio i parametri del modello, rifaccio la simulazione teorica, mantenendo quella di campagna, ovviamente, che è la misura, e vado avanti, fino a quando la curva numerica non va ad agiarsi su quella sperimentale. Adesso ve lo faccio vedere. Quando questo avviene, ho terminato la mia ricerca, ho trovato il profilo di velocità. Esempi numerici. Allora, gli esempi numerici sono degli esempi, cioè ipotizzo un certo profilo di velocità e calcolo la curva apparente, quella che misurerei in campagna, per vedere effettivamente che forma ha. Perché lo faccio? Perché da questi esempi numerici imparo a riconoscere che tipo di profilo devo attendermi sulla base della forma assunta dalla curva di dispersione apparente, quella che misuro in campagna. Allora, vediamo qui. Qui ho un esempio di profilo in cui ho uno strato più rigido, superficiale, e poi il profilo scende in maniera più o meno regolare, insomma, con contrasti di rigidezza non tanto elevati. Che curva misurerei io in sito? Quella è di campagna. Questa è blu. Allora, adesso io rifarei la domanda. Allora, questo qui che modo è? Benissimo, il primo. Questo lo dico io. Questo che modo è? Il terzo. Perché lo so? Perché l'ho simulato io, ho simulato, quindi conosco già il profilo e posso dire a posteriori che tipo di modo è. Benissimo. Ma se io non avessi il profilo di velocità, e avessi soltanto quella blu, non sarei così sicuro nel rispondere. Anzi, probabilmente tenderei a dire il secondo modo. Eh, sbaglierei. È il terzo, invece. E allora, è questo qui, invece? Questo qui che modo è? È tra il secondo e il terzo. Non è il secondo e il terzo. Ok, andiamo a vedere un altro esempio. Questo qui. C'è uno strato rigido a circa 5 metri. Va bene? Quindi, soffice, rigido, soffice e poi il pedro, il sismico. Qual è la curva di dispersione? Questa qua. Guardate, il primo modo però questo salto è dovuto alla presenza di questo strato rigido. Questo qui. Perché va verso l'altro. Perché questo è rigido. Perché va verso l'altro. Che modo è? il secondo per due punti e poi scende sul primo. Facciamo vedere un altro esempio. Ecco, guardate che qui non c'è stato soffice, è stato rigido però c'è un bel contrasto di rigidezza. Questa è una situazione che può accadere. Non è che... Perché si passa da 220 al secondo a 1000 può accadere. Io ho ritrovato situazioni in cui questo avviene. Poteva essere anche 400 non necessariamente 200. Guardiamo la curva blu come è. Allora, primo modo poi salta sul secondo e poi ritorna sul primo. Perché? Perché io conosco questa curva qui. Ho generato... conosco il profilo ho generato la curva apparente con tutti i modi e riesco a dirlo ma se io avessi soltanto quella blu e dovessi decifrare di che modo si tratta avrei il 99,99% di possibilità di sbagliare. Ecco perché è importante il fatto che il software consente di calcolare la curva apparente o effettiva considerando la sovrapposizione nei vari modi anche quelli superiori in maniera automatica senza dover scegliere a priori dallo spettro questo è il primo modo questo è il secondo questo è il terzo ok? Questo è importante per questo motivo qua. Ok. Questo qui è un caso molto molto estremo abbiamo stato molto soffice 50 minuti al secondo non so se c'è la la collega di stamattina parlavamo di terreni molto soffici potrebbero essere pomice per esempio o torbe ecco il fatto di avere uno strato così soffice può essere per esempio una simulazione di insomma è simile molto simile al caso per esempio di avere una cavità un tunnel che sia parallelo allo stendimento sotto lo stendimento ok? In questo caso qui quello che io misurerei sarebbe una curva questa qui azzurra molto molto irregolare con salti verso l'alto verso il basso e un indice di presenza diciamo di una forte irregolarità nel profilo uno strato molto soffice se lo strato soffice invece leggermente soffice la curva invece ha una leggera flessione se lo strato superficiale è più rigido di quello che c'è sotto cosa cosa misurerei? vedete la curva non va verso l'alto ma va verso il basso perché a basse frequenze perché le basse frequenze stanno misurando quello che c'è sotto le alte frequenze misurano quello che c'è più sopra infatti sopra lo stato è più rigido ok? quindi basse frequenze danno informazioni sui stati profondi alte frequenze sugli stati più superficiali se ho un substato più soffice poi qui ci sono diverse casistiche per esempio stato soffice guardate perché che forte irregolarità a basse frequenze scende giù questo è un terreno perfettamente omogeneo cioè non stratificato la curva che misurerei è orizzontale questa è teorica ovviamente però se è abbastanza omogeneo può capitare di avere una stratigrafia che si dita che ne so io la linea o le ordine normal consolidate per una padana per esempio sono più frequenti dove la resistenza non aumenta neanche la rigidezza con la profondità per diversi metri allora terreno omogeneo inserisco la falda c'è una variazione guardate ma non è così importante in genere la falda come viene simulata viene simulata attribuendo al coefficiente di Poisson un valore più elevato del solito superiore a 0,4 dipende da cosa dipende dal grado di saturazione perché quanto più il terreno è saturo quanto più diventa diciamo importante l'incomprimibilità dell'acqua tant'è vero che se fate della sismica rifrazione o del P e avete la falda in terreni misurate la Vp dell'acqua ok perché perché l'acqua è incomprivibile quindi il coefficiente di Poisson è vicino a 0,5 e tra 0,4 e 0,5 in funzione del grado di saturazione se invece non c'è falda il coefficiente di Poisson può variare tra 0,15 e 0,3 in funzione diciamo della natura del terreno però è ovvio che siccome parliamo di piccolissime deformazioni cioè allora a questo punto anche il coefficiente di Poisson è piccolo infatti quello che noi misuriamo che è la Vs dalla quale poi calcoliamo il modulo G e il modulo G0 ok a piccolissime deformazioni se poi voglio un modulo operativo di calcolo ovviamente devo abbattere il modulo per esempio riducendo di un fattore 5,7,8,10 in funzione di quello che è il livello di deformazione che io mi aspetterei in funzione dell'opera sia sotto la fondazione superficiale sotto il pallo di fondazione piuttosto che al lato dietro l'opera di sostegno il livello di formazione dipende appunto dal tipo di opera e in funzione del livello di formazione il modulo si abbatte più o meno di più o di meno tanto più alto il livello di formazione tanto più si abbatte il modulo dovrei avere una curva di decadimento che in genere si sostiene o da prova di laboratorio oppure se ho delle informazioni sullo stesso tipo di materiale di prove di laboratorio già fatte anche il passo dei ricevitori è importante guardate un po' questo è fatto con un metro e mezzo e questo è con 5 in realtà se voi vedete a 20 Hz qui c'è un lieve cambiamento cioè per dire che anche lì i ricevitori sono importanti ora parliamo della classificazione sismica di questo argomento metà di voi già sono stati in qualche maniera informati stamattina però c'è un'altra parte questo qui è svaldo PIRCUS se qualcuno di voi sa chiedere